Ciao a tutti, oggi sono qui a parlare dei miei top e flop del mese di giugno. Iniziamo subito dai top. In prima posizione per me c'è assolutamente il fondotinta minerale di neve, l'iCoverage Mineral Foundation, e penso non sarà solamente il top di giugno, ma rientrerà nei top di tutta l'estate, perché si tratta di un fondotinta davvero leggero, perfetto per chi come me ancora non è riuscita ad andare al mare e quindi ha l'apparenza un po' un fattasmino. Questo qui è veramente leggerissimo, la polvere è impalpabile, finissima, l'unica cosa che mi è rimasta un po' difficile, un po' complicato, è il fatto di scegliere il colore tramite internet. Dà delle guide abbastanza dettagliate, cioè ci sono delle guide abbastanza dettagliate sul sito di neve, ma effettivamente ancora non so oggi se ho preso il mio colore. Posso dire che però si uniforma perfettamente con il mio incarnato, quindi probabilmente ci avrò preso, non lo so. Questa è la full size, viene circa 12,90€, una cosa del genere, ma penso durerà tipo un anno, perché io la sto utilizzando tutti i giorni da un mese, non accenna proprio a scendere, anzi sembra che si moltiplichi di notte la polvere, non lo so. E' comodissima, perché all'interno, come vedete, è un sifter che si gira, fa scendere la polverina e quindi comunque non c'è neanche una perdita di prodotto, insomma. Può essere applicato o con un pennello grande da viso, un kabuki, comunque un pennello normale grande, per una coprenza diciamo più leggera, oppure per una coprenza un pochino più elevata con un flat buchi, che sarebbe questo pennello con le sedole molto molto più fitte fra loro. Io devo dire che lo applico sempre con i flat buchi, la coprenza è buona, ma nel senso però non è che fa l'effetto cerone, è veramente un buon fondotinta secondo me, lo consiglio veramente. Altro top, sempre Casaneve, ormai, è la Cipria Hollywood, questa non è diciamo la sua scatolina perché avevo preso una mini size, solo che Neve ha deciso di fare delle mini size veramente troppo troppo piccole che per gli ombretti ok vanno bene, perché sarebbero, vediamo se la trovo, questa è qui, vedete la differenza, quindi per l'ombretto ok può andar bene, per la cipria è impossibile prelevare della cipria da un barattolino del genere e quindi ho comprato direttamente dal sito Neve il barattolino più grande e l'ho travasata qui dentro e in questo modo insomma risulta un attimino più semplice prelevarla, l'unica cosa è che non è il sifter e quindi bisogna stare un pochino attenti nel senso a non metterla sotto sopra perché rischi quando apri ha scelto il prodotto. Dopo questa premessa, allora questa è una mini size, ce l'ho da più di un mese, la utilizzo quasi tutti i giorni e ancora ce n'è veramente tanta, non so se si riesce a vedere, è fantastica, allora nel mio post dei promossi dei top del mese scorso ho messo l'invisible power di Kiko, un'altra cipria traslucida davvero davvero buona ma questa è fantastica, è finissima, lascia la pelle liscia liscia quasi vellutata e tra l'altro non fa lucidare la pelle per tutto il giorno, è davvero davvero buona, penso non so neanche se riacquistare il formato grande o un altro piccolo perché comunque vedendo quanto dura questo non sembra che l'ho pagato 3,90 euro, una cosa del genere quindi insomma ne vale davvero davvero la pena. Altro top, ormai penso l'avete visto da tutte le parti, è questo blush essence, il blush up, io ho questa colorazione che è la 10, heat wave e come sapete si sono in due colorazioni, una che va da rosa al fucsia e questa che va dall'arancio al fucsia, io ho deciso di prendere questa perché se voi vedete i miei blush sono tutti 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 sui toni del rosa, del fucsia e quindi non avevo niente diciamo con questo tono così aranciato che secondo me d'estate con la bronzatura non è affatto male e mi piace moltissimo perché è tanto tanto pigmentato ed è carino perché comunque se prelevo questa parte esce fuori un bel rosa, molto pigmentato come vedete, se prelevo un po' di arancione viene fuori un bel colore aranciato oppure se li mischio un po' viene fuori un colore molto bello, particolare, un po' pescato, sarebbe questo qui, quindi lo trovo un blush molto versatile, anche perfetto tipo da portare in vacanza invece di portare tre blush diversi possiamo portare questo, bello, mi piace tantissimo, peccato per l'Inci visto che c'è tipo ai primi posti il dimeticone quindi non è proprio tra i migliori. ultimo top, non per importanza, è questo fantastico matitone Y-Coin che è quello che porto adesso, che giuro che non rende dalla fotocamera perché è molto più fucsia ed è il Simply Red rossetto in matita 5 ore Candy Pink della linea Burlesque è questo matitone che come vedete è un bel fucsia opaco, spero che renda dalla fotocamera ed è fantastico perché dura tantissimo e non secca per nulla le labbra, ve lo dico io che qualsiasi tinta che utilizzo vanno poi a evidenziare tutte le pellicine, me le secca tutto, invece questo qui è davvero davvero buono, oltre tutto se sopra ci metto un gloss dura ancora di più e me le secca ancora meno, davvero un bel matitone labbra, questo l'avevo preso tipo in offerta 3,90€, 2,90€, una cosa del genere, comunque è davvero davvero bello. E ora passiamo ai flop, allora non ho mai grandi grandi flop, per fortuna, la maggior parte dei flop, anche per chi ha letto magari i vari post, sono dati da colpa mia per colori sbagliati presi magari su ordini su internet e anche stavolta è successa la stessa cosa. Ho questa matita per le sopracciglia ELF, che è l'eyebrow lifter filler, che essenzialmente è una buona matita ma è troppo scura per me, sono riuscita a sfruttarla un po' quando avevo rifatto la tinta ai capelli, ma adesso che il colore comunque ha scaricato ed è diventato il più chiaro per me è veramente troppo scura, ed è infatti la medium. faccio vedere, vedete è veramente un marrone troppo 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 scuro. Per fortuna riesco comunque ad utilizzare la parte diciamo illuminante, che è un colore avorio, non si vede nemmeno, un rosa avorio. Però mi dispiace perché comunque non riesco a sfruttarlo come vorrei, ma ecco, non è proprio un vero e proprio flop, è più uno sbaglio da parte mia di quando ho fatto l'ordine. Altro flop è lui. Ah, io non metto solo make-up nei top e flop, ma proprio tutto ciò che mi ha conquistato ho delusa durante il mese. E questo ce l'ho da parecchio tempo nell'armadietto in bagno, ma non riesco, c'è ancora pieno, non riesco mai a utilizzarlo. È un siero acceleratore di brillantezza per capelli colorati e riflessati senza risciacquo. Quindi lo metto sui capelli umidi prima di asciugarli, ma non mi ci trovo affatto bene perché sembra che mi li unga, mi sentisce. E quindi lo utilizzo una volta sì e dice no, ed ecco che è ancora bello pieno tipo dopo quasi un anno che ce l'ho. E non so come utilizzarlo, ogni tanto ci provo, ma l'effetto è sempre lo stesso. Quindi per me questo è bocciadino. E altro flop. Questo mi dispiace moltissimo perché è un rossetto Kiko, il numero 79, che è bellissimo. Quindi è questo bel color corallo chiaro, tra un corallo e aranciato, che è stupendo. Eccolo qui. Vedete? È veramente un bellissimo colore, con delle micro perlescenze all'interno, che secondo me soprattutto d'estate, ma quando si abbronzate potrebbe essere un bel rossetto. L'unico problema è che ha una durata pessima. Appena lo metto, dopo nemmeno dieci minuti incomincia a levarsi tipo a pezzetti e quindi non va via in modo omogeneo. Mentre tipo ecco, la tinta che vi ho fatto vedere riprende il matitone Y-Coin, quando incomincia ad andare via, va via in modo omogeneo, cioè lascia l'alone, ma non va via a pezzetti. Invece questo va proprio via a pezzetti ed è veramente un effetto bruttissimo. Peccato perché ho detto che il colore è veramente stupendo. Non so, fatemi sapere anche voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati e fatemi sapere soprattutto i vostri top e flop di giugno. Aspetti i vostri commenti, alla prossima! Ciao! Ciao!